Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento medio. Come potete osservare dalla nostra grafica buone notizie per il fine settimana quando l'alta pressione tornerà a proteggere tutta la nostra penisola regalandoci temperature oltre la media stagionale. Infatti come potete osservare dalla nostra grafica delle temperature massime avremo valori compresi tra i 18 e i 24 gradi. E allora diamo uno sguardo all'evoluzione meteorologica per la giornata di sabato. Ebbene come potete osservare avremo tanto sole su tutte le regioni con soltanto qualche nube di passaggio sulla Sicilia. Poi domenica avremo una giornata pressoché analoga con tanto sole ancora su tutto il nostro territorio e un po' di nuvolosità di passaggio sulle nostre Alpi orientali e all'estremo sud. Questa è una previsione che ha un indice di affidabilità medio alto che si attesta tra l'85 ed il 90. Intanto vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli regione per regione potete consultare il nostro sito web sempre aggiornato www.meteo.it oppure potete scaricare la nostra applicazione gratuita.